Può sembrare facile ma non è facile senza lezza, eh Può sembrare facile ma non è facile Ammettiamo la cosa, Gini un uovo è bello perché se... Gini un uovo, figo Però nessuno lo va a usare No, no, Cicari e non recume Gini Cicari e non recume Gini, fidatevi Exo, grazie ancora per la sub L'anticipo, va bene, adesso vado a sfondare i cieli, grazie ancora Grazie ancora, ciao Dali Devo fare l'SBR Gini un force ma non so che team usare Quello che stai vedendo qua Senza scherzi Oh mamma mia Le potremmo prendere già all'inizio E' bello avere Gise in team, no? E' bello E' bello Vedi quando lo stai per prenderlo in quel posticino Non è bello quello Quella è la parte non bella No, la memory del plan in Nama Saga Extreme non ci aiuterà Però tanca Oh, tanca Darts, buonasera Sì, oltre a Gini e GL è tutto free to play Sono i membri della squadra Gini free to play E' completamente free to play questo team Io farei Ragazzi, Gini Che dite? Gini Gise Gini Gini Recume come turnazioni Non mi ricordo se l'hanno fatto riuscire qui Lo so, lo so però, boh Cioè Non lo so, boh Non lo so, ho comunque paura Free to play power Ho comunque paura Aspettate Gini Gini Quando è che tancava? Quando è che tancava ragazzi? Con due nemici almeno Ok, allora sì È da far girare assolutamente Ci hanno sfidato di finire La LGA e GT Con Un team free to play Però C'è il permesso di usare almeno Almeno un G Cioè Almeno i Gini Nuovi Gini OGL Ci carriera molto Sappiatelo Sappiatelo che i Gini OGL Ci carrieranno molto Assai Questo attualmente Sì È il best team free to play Del gioco Sì sì Attualmente Sì lo è Non considerando il lead Perché il lead Non è free to play Però c'è Gini OLR Fisico È il miglior team free to play Del gioco Fine Oh mettiamo la prova ancora Recum Alla prova Recum ragazzi Let's go Vediamo Vai Recum Tanca tutto Oh Recum 35k Recum Recum ragazzi Sai se posso giocare Dock and Jump Su Huawei Senza servizi Google Devi installarli È un po' un casino Fa un casino Te lo dico Già Non esplodere Attenzione Attenzione Wow Però comunque È una cosa che Sì nel video di oggi L'ho fatta notare Gini O senza Gini OLR E fisico Sapete che è un po' brutto È un po' brutto Me la sto cavando per ora In effetti Oh E questo Questo si deve Ancora baffare Adesso li mettiamo lì Ce la si fa Tanto abbiamo comunque Due cure Noi crediamo Noi crediamo in Lord Gini Il nostro capitano 13 mila 13 mila Sono danni accettabili Dai E non mi portate Sfighe Devo diventare Immortale Con Gini No no Non possiamo Trasformarlo Dobbiamo solo Recuperare Tantissima vita È la cosa Più importante Andiamo Andiamo Ho 120 stone Sul global All'anniversario Quante ne avrò Se schifo tutto Ne avrai Ne avrai Tranquillo Ma lui Comunque Resa la death E oh 4 milioni Oh Fa sempre male Questo ragazzi Oh L'ha debbaffato La death L'ha debbaffato La death Va benissimo Non so nemmeno Perché parli Ban Non so nemmeno Perché parli Ban Ban Perché stai parlando Perché parli Tanto Scuderai tutto Mi fido Mi fido Potere di Giniu GX No Anlu GX Anlu Non lo so leggere È troppo difficile Grazie mille Per i 13 mesi di sub Exo Ancora una sub Grazie Grazie mille Grazie ancora Grazie ancora Grazie 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 Ancora Molto difficile Sì 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 Tranquillo Ok dobbiamo solo resistere Un attimo Dai Toku sentai Toku sentai Toku sentai Ce la stiamo cavando Ce la stiamo cavando L'item era obbligo L'item era un obbligo Ho già il docane È un problema Vabbè una squadra Free to play Dai Accettiamolo Accettiamo la cosa Accettiamo la cosa Fanta al mio No Rip Antonio Sera Add power Non so quando sarebbe L'ora migliore Di trasformare Giniu Sinceramente Non lo so Ragazzi Non lo so Ci serve una trasformazione Ma non so quando Dobbiamo anche Boostare l'attacco Perché manca Un pochino Anche quello Diventa un po' Immortale Poi Non so Goku Int E trasformiamo Ma non è vero Ale Ah no è vero L'hai regalata di nuovo L'hai regalata di nuovo Ah grazie anche a te Ale Grazie ancora Eh non ha suonato Grazie mille Grazie mille Ale Grazie mille anche a te Per la sabre regalata per la sabre galata ancora Grazie a te Ok Giniu Dai Carriaci Carri al mondo Carri a tutti Sono sorda e succede Ti prego Giniu Bravissimo Ma va bene anche questo E' un bug E' un bug Quello che non senti la voce Devi solamente Clearare la cache Oppure aspetti Ok calma Ok calma 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 eh Siamo arrivati a un momento cruciale della run A 220.000 Def The new 33381 Grazie mille per la sab con Twitch Prime Grazie mille Qua stiamo facendo la storia della squadra Giniu La squadra Giniu La squadra Tokusentai Può comunque battere Goku GT Vedete Perché GT E' peggio Di DBZ E tutti i nemici di DBZ In realtà sono in grado di battere LLG GT Buono Sta ancora prendendo danni Questo è un problema Sta ancora prendendo danni Questo è un problema ragazzi Brabra Vlad Ti devi boostare la def qui Ti devi assolutamente boostare la def Easy easy Buono Perfetto ragazzi Perfetto L'ho il Devo Vai Giniu Tokusentai Tokusentai Dai che lo dobbiamo anche trasformare Ragazzi Quanto abbiamo preso prima 30.000 112 Buono 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 Ora trasformiamo Giniu Appena possibile Ora trasformiamo Giniu Appena possibile E siamo a posto Non posso Tiger Niente special Buono Qua prenderemo abbastanza danni Facciamo Giniu 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 Recuum Dai che ce la possiamo fare Prezzo special Non ho visto No Non su GICE però Non su GICE Su GICE non Ok Trasformazione E' arrivato il momento E' arrivato il momento Ok. change quant'è def? non è tanta è un po' un problema in realtà non è tanta def quella devo far girare recume per la prossima fase ok a posto dopo dopo Ale un attimo fammi finire sta sfida la devo vincere assolutamente HDMI quando vuoi grazie mamma mia che tank mamma mia che tank ok mamma mia che tank la squadra Giniu domina il GT boss questo è come doveva finire il GT questo era come doveva finire il GT ragazzi la squadra Giniu che batteva Goku fatto male fatto male quello fatto molto male fatto molto male fatto molto male aia fatto male aia ok a posto a posto uff trasformiamo change change uff 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 ragazzi uff non sprecare ste orb sono sprecate tutte facciamo così andiamo va bene va bene nexo prima fammi finir però sta sfida scusa uff 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 sai dirmi se devi stare in un altro modo no non te lo so dire non uso device Huawei non ti so proprio dire sorry recum resisti grande recum grande recum grande recum la potenza di recum la genufo titolo la genufo meglio del corroded mind and body lol oh 3 milioni e 8 anche genu wint dai 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 let's go addino 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 vai ok special dove special subito allora questa è per GICE la sotto 700.000 l'DOV TOKU SENTAI TOKU SENTAI TOKU SENTAI ma non ce ne frega niente quella TOKU SENTAI Critta di più Ci servono i crit Ci servono i crit Non ci sono altre unità No Ok 560.000 all'altro 300.000 death barter Let's go È il nostro momento È il nostro momento La squadra Genio Item da prima Qua farà più malino Ma non troppo Non troppo male Infatti Critta 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 C'è l'idea il debuff Il buff di ottone Non lo so Dopo proviamo Proviamo a vedere Ikzo Minna No 732.000 Ok Vediamo quanto va Un milione Quanto è? Un milione e novantottomila death È un peccato È un peccato quella special lì La Chiude Genio Chiude Genio di Dokkan Mode Ragazzi abbiamo finito GG Tokusentai 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 E non diciamo L'ha carriato solo lui In effetti E E E Recume Dai E Recume DBZ Super AGT In ogni modo Anche con la squadra Genio La squadra Genio È meglio anche dei Super Saiyan Qua GG GG Squadra Genio Fatta Tokusentai Let's go Grazie a tutti